Per quanto riguarda la campagna elettorale devo dire è entusiasmante, penso che siamo proprio quando ci fu il 99 a Bologna, sono elezioni storiche, direi non tanto per le file o non file all'ospedale ma quanto per un sistema vincolistico, vincolatore, che non poteva altro che cadere come il muro di Berlino e come dice Ronald Reagan, butta giù il muro. Io sono molto fiduciosa, avremo dei risultati inaspettati. Quindi la sensazione sua è questa, incontrando le persone? Incontrando le persone la sensazione è questa perché proprio non aver mai fatto nulla, aver vissuto di rendita, ha fatto sì che le persone nel loro disamore si sono riattaccate alle persone che negli anni hanno lavorato e le riconoscono.